Noi lo abbiamo detto in tutti questi mesi che vogliamo che si faccia una legge sulle unioni civili, vogliamo però che sia una buona legge. Perché sia una buona legge, ovviamente dobbiamo dire con molta chiarezza che le unioni civili sono una cosa diversa dalla famiglia, ma ancora di più dobbiamo dire con chiarezza che quello che vogliono tra l'altro tutti gli italiani, oltre il 70% degli italiani, è contrario alle adozioni da parte delle unioni civili di persone dello stesso sesso. Quindi questa legge che è stata ripresentata è una forzatura perché anziché andare avanti sul dialogo e sul confronto, come è giusto che sia, va nella direzione di ricalcare in maniera assoluta gli articoli del codice civile che si riferiscono alla famiglia, non fa più riferimento all'articolo 28-29 della Costituzione ma all'articolo 2, sono tutte cose tecniche, la sostanza è che se il PD pensa di fare una battaglia sulle unioni civili, magari per placare quella minoranza del Partito Democratico che ha dovuto votare per il cambiamento e le riforme costituzionali, fa un errore gravissimo. Non si mettono sullo stesso piano il cambiamento dell'Italia, giusto e doveroso, ad una legge altrettanto giusta e doverosa che dobbiamo fare sulle unioni civili, ma che deve vedere un confronto serio e non ideologico, né da una parte né dall'altra. Ma i tempi per una approvazione...